Amore cosa ci fai? Stai ballando dietro là? Ma perché? Panico, panico! Ma, ma, e cosa mi vuoi raccontare, il patato? Cosa mi racconta il mio patato? Hai ragione! Ma proprio, hai assolutamente ragione! Cosa mi raccontare? Grazie a tutti. This is my first look of the day and this is my hair and makeup. So beautiful you guys, congrats! Mini cons! Manu! 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 Manu!